Stasera facciamo un'asta di beneficenza organizzata dalla Lessi in collaborazione con Zero. Il vostro apporto quest'anno ci aiuterà a far vivere il primo vero Natale a questi bambini. Chiaramente io mi sono dimenticato a dirvi che l'asta è in favore di Aibi, che è un'associazione che da anni è supportata dalla Lessi. In base d'asta 36, 40, 50, 70, 95, 1, 2, 3, 125, 130, 35. 161, 162, 163, aggiudicato. Aggiudicato. Bravo. Aggiudicato.